Sono Gaia, ho 19 anni e frequento il corso IFTS Pastry Specialist. Il corso IFTS Pastry Specialist mi sto specializzando nella pasticceria tradizionale italiana e quella moderna, ma allo stesso tempo ci stiamo specializzando anche nella pasticceria mignon, nella lavorazione del cioccolato, nei dessert al piatto e soprattutto nella confetteria. che è un corso molto raro da trovare in Italia e è un valore aggiunto in questo percorso. Nel percorso IFTS Pastry Specialist la formazione è prettamente pratica e esperienziale, all'interno di laboratori all'avanguardia, dove i docenti ci illustrano come lavorare la materia prima manualmente, ma studiamo anche i macchinari e i loro componenti. Formazione, conoscenze tecniche e confronto. Grazie a tutti.